Dio, 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 Dio! Non ho suonato la snella, ma sì mi ha suonato, e con quel grillo così potente da far creare i botti io ho continuato a dormire in pace. E sono in pace, pace è l'unico. Perché ti abbandoni? Perché devi lavorare, lavorare per tutti noi? Perché non apri questa porta? Ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? Ti ho mandata a chiamare il teatro. Mamma, 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 da soli non saremmo mai riusciti e cominciare il greco ad aprire la porta, è così ostinato e mi scuro non sapere. Questa mattina ha un risveglio da sogni tormentosi. Greco si è scoperto trasformato. No, 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 no. No, 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 so, Ludwig? Anno? 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 E sparse? Sparse? E degrezz? Anno? Sparse? In un insetto. Un insetto. E non un me.